Sconcerto a Boiano, dove un commerciante muore stroncato da un infarto durante il controllo delle fiamme gialle. Il 54enne si è accasciato sotto gli occhi dei due militari. L'uomo lascia, la moglie e tre figli. Restano per il momento solo sulla carta i propositi di riunificazione dei tre consorsi molisani in una sola agenzia. L'assessore Scarabeo rassicura in autunno daremo un'accelerata a tutte le riforme messe in cantiere dalla giunta frattura. I comitati basso molisani chiedono l'intervento dei sindaci e delle amministrazioni locali per difendere i livelli minimi di assistenza sanitaria. Intanto Tecla Boccardo della Will tuona sui disservizi estivi, puntuali come le ferie. Ultime ore di attesa per la gara di Coppa Italia a Trivento tra Campobasso e Limpia Agnonese che aprirà la stagione ufficiale. Chi passa il turno il 31 agosto sfiderà il Termoli al Cannarsa. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Molise TV. Lo avete sentito dai titoli. Apriamo questo telegiornale parlando di cronaca. Tutta la comunità di Boiano si è stretta attorno alla famiglia di Gaetano Cirilli, commerciante di 54 anni stroncato da un infarto durante un controllo della finanza nel suo negozio. I funerali dell'uomo si sono svolti nella chiesa di San Biagio. Vediamo il servizio. A Boiano è il giorno del dolore per Gaetano Cirilli, il commerciante di 54 anni stroncato da un infarto durante un controllo della finanza nella sua attività. La comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia nella chiesa di San Biagio in cui si sono svolti i funerali. L'uomo lascia la moglie e tre figli che sono intenzionati a portare avanti il negozio d'abbigliamento di via Cavadini, aperto da 25 anni. Per Gaetano la giornata sembrava come tante altre, con i clienti da servire e i conti da tenere in ordine. Poi l'arrivo dei militari della finanza che hanno chiesto ad una cliente appena uscita dal suo negozio di esibire lo scontrino fiscale. Successivamente i finanzieri avrebbero proseguito i controlli di routine all'interno dell'attività commerciale. Ma l'accertamento non è mai avvenuto poiché Gaetano si è improvvisamente accasciato a terra privo di sensi. Sono stati gli stessi militari a prestargli i primi soccorsi e a chiamare il 118, ma il cuore di Gaetano, che pare non fosse nuovo a questi malori, si è fermato quasi subito e annulla e vazza la corsa disperata al Cardarelli. E anche gli stessi militari non hanno potuto far altro tramite il colonnello Paolo Damata che esprimere il loro cordoglio alla famiglia e spiegare che si trovavano lì soltanto per svolgere il loro lavoro e che nella loro azione non c'è stato nulla di brutale. Brutale è stato solo il dolore dei familiari e degli amici di Gaetano, oltre che della comunità di Boiano, che non riescono ancora a darsi pace per una morte tanto improvvisa quanto assurda per le circostanze che l'hanno accompagnata. A Campobasso è stato denunciato per furto il 32enne originario di Termoli, che è stato beccato dalla polizia dopo aver rubato una borsa da un'autovettura parcheggiata in Via Damato. La sera dello scorso 20 agosto il giovane è stato rintracciato e fermato grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno assistito al fatto e che hanno fornito il profilo somatico del malvivente. Intanto le forze dell'ordine stanno verificando se il giovane sia responsabile anche di furti avvenuti su altre autovetture nel capoluogo, sempre con lo stesso modus operandi. E parliamo adesso dei consorsi molisani. Torniamo ad occuparci dei consorsi industriali. Restano per il momento solo sulla carta i propositi di riunificazione dei tre consorsi molisani in una sola agenzia. L'assessore Scarabeo rassicura che in autunno daremo un'accelerata a tutte le riforme messe in cantiere dalla Giunta Frattura. Vediamo il servizio. In base al disegno di legge ed iniziativa della Giunta regionale, i tre consorsi industriali del Molise sono destinati a scomparire. A occuparsi della gestione e della fornitura dei servizi a sostegno delle imprese sarà l'ARSAP, l'Agenzia regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Questi i buoni propositi ribaditi anche a distanza di un anno dall'insediamento del governo Frattura. Ma ad oggi le cose sono invariate. A strigliare la Giunta regionale ci avevano già pensato gli amministratori territoriali del PD del Basso Molise, che si sono chiesti proprio che fine avessero fatto gli intenti di riunificazione dei consorsi industriali in una sola agenzia in Molise. Interrogato sull'argomento, l'assessore Massimiliano Scarabeo ha così replicato. Io ritengo che alla ripresa in autunno ci sarà l'accelerata di riforme. Questo più volte il governatore Frattura lo ha sottolineato. Credo che noi siamo stati votati anche per avere una marcia che sia letteralmente differente rispetto ai periodi precedenti. Non è solamente la legge che riguarda il raggruppamento dei nuclei industriali passando attraverso un'unica agenzia, ma soprattutto lo snellimento burocratico di quelle che sono le procedure che oggi ingessano il sistema Molise non solo. A deludere gli amministratori la connivenza con cui viene ancora oggi garantita la governance del COSIB a Termoli, oggetto di innumerevoli polemiche legate al gettone di presenza trasformato in una sorta di indennità e al mancato adeguamento a quanto stabilito dalla legge regionale 10 del 2013, che contiene disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e anche la riduzione di costi degli apparati amministrativi degli enti pubblici di natura economica, come il COSIB, accusato da più parti di totale indifferenza nei confronti di una catastrofica situazione produttiva e occupazionale del nucleo industriale di Termoli. Sempre Massimiliano Scarabeo, assessore regionale allo sviluppo economico, ha commentato dal suo profilo Facebook la vicenda delle minacce ricevute dal sindaco di Venafro Antonio Sorbo. Vogliamo smetterla, si è chiesto in un post, di dare alla ricerca di smisurata visibilità quando l'inefficienza e l'inconcretezza amministrativa regna. Per cosa sarebbe stato minacciato ha proseguito Scarabeo colui che non fa nulla, salvo questioni familiari scottanti. Essere amministratori pubblici ha concluso è una cosa seria e richiede sacrifici costanti e quotidiani. E ci spostiamo a Larino, dove il Comitato Civico Provietri continua la propria battaglia in difesa della sanità pubblica. E dopo aver iniziato una raccolta fondi per sostenere le spese legari del ricorso al TAR, ha invitato i sindaci del Basso Molisi ad intervenire d'urgenza sulla questione. Vediamo il servizio. I costi della giustizia amministrativa sono quasi proibitivi e così per garantire la tutela del diritto alla salute il Comitato Civico Provietri ha deciso di dare vita ad una colletta per finanziare il ricorso al TAR contro il decreto dell'ultimo piano sanitario regionale. Il Comitato Civico Frentano è sceso di nuovo in piazza a Larino per la terza volta in un'estate in cui la tutela della sanità pubblica non conosce sosta, ma occorre un supporto di tutta la cittadinanza del Basso Molise poiché il problema dell'estinzione dei livelli minimi di assistenza non riguarda solo il comprensorio larinese, ma riguarda tutta la costa molisana, compreso il Santimoteo. Non è una questione di Larino, qui è una questione di tutto il territorio basso molisano. Purtroppo la chiusura del Vietri non è l'unico problema. Anche il Santimoteo purtroppo è un ospedale che ormai è semismantellato, per cui il rischio per i cittadini di questo territorio è quello di non avere più neppure i livelli essenziali di assistenza. In questi anni non si è provveduto neppure a trovare delle soluzioni alternative, quale per esempio la cosiddetta medicina territoriale. Non si è instaurata alcuna rete di assistenza territoriale, non si è fatto assolutamente nulla per evitare di mantenere gli ospedali. A preoccupare sono le carenze di personali sovraccarichi di lavoro che si verificano quotidianamente. Situazione questa sintomo di una vicina chiusura degli ospedali pubblici, a vantaggio di quelli privati. Il comitato non demorde ma i cittadini devono contribuire all'unisolo con le amministrazioni locali in una battaglia che è di tutti per il bene di tutti. Noi auspichiamo che a questo punto, così come avevano detto di prendere l'impegno, i primi cittadini del territorio del Basso Molise prendano in mano la situazione e comincino a battere i pugni sui tavoli dov'è che si deve discutere di questo problema. Dunque da Larino si alza un unico monito, quello che cittadini e sindaci del Basso Molise prendono in mano la situazione al più presto. E restiamo in ambito sanità. Duro l'intervento del segretario regionale della UIL Tecla Boccardo in merito al sistema sanitario molisano e al suo scarso funzionamento estivo. Anche quest'anno il sistema sanitario regionale nel periodo estivo mostra tutte le sue carenze e gli stessi fallimenti degli anni precedenti. Limiti acuiti particolarmente in alcuni territori che assistono a un forte incremento della popolazione nel periodo estivo, ha commentato il segretario, che poi ha aggiunto in queste zone i tali di risorse di personale si fanno sentire ancora di più, creando vere e proprie situazioni rischiose e pericolose per l'utenza. Ci spostiamo a Capracotta. Lo scorso 16 agosto Tito Reggiani, 78enne ingegnere di Roma, è deceduto a causa di un malore sul Monte Capraro. A Capracotta a nulla sono valsi i soccorsi e i tentativi di salvargli la vita. Intanto il sostituto procuratore di Serni ha aperto un fascicolo di indagini. Non c'è stato nulla da fare per il 78enne colpito da un malore il 16 agosto scorso mentre era impegnato in un'escursione sul Monte Capraro a Capracotta. Tito Reggiani, ingegnere di Roma, originario di Capracotta, verso la tarda mattinata, aveva accusato un malore. Subito i compagni di escursione si erano resi conto della gravità della situazione. In poche decine di minuti era stato soccorso dal 118 e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e trasferito all'ospedale di Campobasso con un elicottero dalla polizia arrivato da Pescara. Un infarto lo aveva colto in un'area particolarmente impervia, dove l'unica modalità di evacuazione in sicurezza e in tempi compatibili con il quadro clinico del paziente era risultata quella dell'elicottero. Il sostituto procuratore della Repubblica di Sernia di turno ha disposto l'autopsia sul corpo del defunto e ha aperto un fascicolo con rignoti per verificare se davvero sia stato fatto tutto quanto possibile per salvare la vita dell'anziano. Solo successivamente la salma sarà riconsegnata alla famiglia per le sequie. Rosario De Matteis, presidente della provincia di Campobasso, è intervenuto su Italia la giustizia in Molise, proposti dal ministro Orlando. Se tutto ciò andrà in porto, ha affermato, la gente comune sarà costretta a spendere tantissimo per avere giustizia in una terra in cui persino i collegamenti per Napoli e Roma non sono soddisfacenti. Sono pronto a scendere in campo per salvaguardare la regione e i suoi servizi, ha concluso De Matteis, ma voglio vedere come voteranno i nostri audaci parlamentari, abili con la parola ma teneri con la mano. E torniamo a Isernia, dove il comandante dei Carabinieri di Isernia e il generale di brigata Giovanni Pietro Barbano lascia il comando provinciale e assume l'incarico di direttore dell'Arma dei Carabinieri di Chieti. Lascia il suo incarico dopo due anni di mandato. Il comandante della regione Carabinieri Molise e il generale di brigata Giovanni Pietro Barbano lascia l'incarico per assumere quello di direttore del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma di Chieti. La cerimonia di commiando si è svolta presso il comando provinciale di Isernia alla presenza di ufficiali, maresciali e brigadiere appuntati. Il generale Barbano ha espresso il suo apprezzamento per l'attività svolta nell'Arma della provincia di Isernia che ha consentito di mantenere costantemente elevato il livello dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. Ha ricoperto la sua carica all'inizio del 2012 e ricordando con affetto il suo impegno Barbano ha voluto ringraziare per la massima collaborazione tutti i militari presenti alla cerimonia augurando loro un buon lavoro per il futuro. Successivamente il saluto presso l'ufficio territoriale del governo al prefetto della provincia di Isernia Filippo Piritore al quale ha preso parte anche il questore di Isernia Armando Nanei e presso la locale procura della Repubblica per il saluto al procuratore Paolo Albano autorità con le quali il generale Barbano ha ripercorso due anni di comune lavoro prestato a servizio sul territorio Pentro. Nicola Magronex, pubblico ministero di Larino e dallo scorso anno sindaco di Modugno comune di 38 mila abitanti in provincia di Bari sarà sostituito dal commissario prefettizio in attesa di nuove elezioni. Infatti 13 dei 24 consiglieri di maggioranza e opposizione si sono dimessi dopo che Magronex aveva denunciato pubblicamente che per 15 anni a Modugno si è costruito con norme illegittime. Infatti nel novembre 2012 due sindaci PD, consiglieri PD e Udc e dirigenti delle passate amministrazioni sono stati arrestati per reati legati a tangenti di brentitori ed ili. E ci spostiamo in Basso Molise precisamente a Termoli dove grande successo ha riscontrato la prima delle due serate della Sagra del Pesce che come ogni anno si svolge nel piazzale antistante il porto della cittadina Basso Molisana. Vediamo il servizio. Ha preso il via nella serata di ieri a Termoli la tradizionale Sagra del Pesce allestita come ogni anno nel porto della cittadina Basso Molisana. La presagra ha richiamato tante persone tra termolesi e turisti con molte presenze anche dall'Interland Molisano giunti in città per assaggiare i piatti a base di pesce nella prima delle due serate dedicate alla Sagra. Sembra bene, stiamo correndo, quindi c'è parecchia gente, bene così. Domani ci sarà la frittura come tutti gli anni e poi sì, ci sono queste iniziative che hanno preso i giovani per far divertire anche loro. L'organizzazione è da una settimana che lotta contro il tempo per far sì che l'evento vada in porto al meglio. Una settimana, sì, stiamo correndo, sono tutti ragazzi, figli, nipoti, pescatori. Dunque a servire ai tavoli un gruppo di giovani ragazzi, figli di armatori e pescatori termolesi che dovranno prendersi cura dei partecipanti all'evento. Sono 1200 i posti a sedere allestiti nella grande sala all'aperto su panche e tavoli in legno con una risposta del pubblico in linea con gli altri anni. Centinaia di biglietti venduti in prevendita nei giorni antecedenti anche durante la serata di ieri con il piazzale affollato da chi è giunto in anticipo rispetto all'ora d'inizio della cena per accaparrarsi un posto a sedere. L'evento Clu si svolgerà però questa sera e sarà accompagnato da un concerto e dai fuochi d'artificio. Ore di angoscia appetacciato a casa di un bimbo di 7 anni che ha fatto perdere le proprie tracce. Fortunatamente il bambino è stato ritrovato a 6 km di distanza dai carabinieri allarmati dalla famiglia del piccolo. Il bambino aveva perso l'orientamento e si era allontanato da Lido dove era in vacanza con i genitori. Circa due ore di ansia e terrore per la sorte dell'infante che è stato ritrovato sano e salvo ma in forte stato confusionale. A Termoli in occasione del 150esimo anniversario della prima convenzione di Ginevra è stata organizzata da parte della Capitaneria l'operazione Tutti al mare un evento che ha visto protagonisti 35 partecipanti diventati marinai per un giorno. Vediamo il servizio. Una mattinata indimenticabile quella trascorsa dai volontari della Croce del Molise dagli utenti del centro di urno del CSM Asrem a Termoli infatti in occasione dei festeggiamenti del 150esimo anniversario della prima convenzione di Ginevra il presidente del comitato provinciale Giuseppe Alabastro ha promosso e organizzato in stretta collaborazione con la Capitaneria di Porto l'operazione denominata Tutti a Mare. Scopo di tale iniziativa era quello di far vivere 35 partecipanti utenti di diverse realtà associative sotto la guida esperta del comandante Antonio Nasti e dei suoi collaboratori un'unica ed emozionante esperienza quella di essere per un giorno un vero equipaggio a bordo di un mezzo della Capitaneria di Porto Noi come Guardia Costiera che abbiamo nel DNA la salvaguardia della vita umana in mare che siamo allevati e cresciuti in termini di solidarietà che viviamo ogni giorno nella cultura della solidarietà ovviamente non potevamo che accogliere questa straordinaria iniziativa con grande entusiasmo e con grande disponibilità cercando di aggiungere qualcosa qualcosa era far vivere a questi ragazzi una esperienza di equipaggio coinvolgerli nelle attività di bordo innanzitutto mediante una introduzione in Capitaneria a quello che è il mondo della Guardia Costiera la realtà portuale e infine a quelle che sarebbero che saranno le attività che verranno fatte a bordo diverse le autorità che hanno preso parte all'evento tra cui il sindaco Sbrocca il vice sindaco Chimisso il presidente del Lions Club Host Plescia e il direttore del centro di salute mentale Asrem Angelo Malinconico e come ogni fine settimana torno allo spazio dedicato alla rubrica di Psicologia di Molise TV curata dal dottor Roberto Santone Buongiorno a tutti oggi parleremo del disturbo ossessivo compulsivo il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato per l'appunto da ossessione e o compulsioni le ossessioni sono dei pensieri ricorrenti vissuti come intrusivi inappropriati fonte di ansia da parte dell'individuo le compulsioni sono dei comportamenti che si presentano spesso sotto forma di rituali in risposta alle ossessioni da neutralizzare per esempio il pensiero ripetuto che la casa possa esplodere potrebbe essere un tipo di ossessione ed il controllo continuo della chiusura della cucina a gas la compulsione di risposta si manifestano perciò comportamenti ripetitivi per esempio il lavarsi le mani per l'ossessione allo sporco ed il controllo continuo di oggetti da sistemare in un certo modo e controllare ripetutamente la chiusura delle porte o azioni mentali come per esempio contare ripetere mentalmente delle parole che il soggetto mette in atto in risposta ad un'ossessione a volte caratterizzata da una eccessiva scaravanzia questo disturbo causa un grosso dispendio di tempo ed energia modifica le abitudini quotidiane ed interferisce sul funzionamento globale della persona grazie e arrivederci Vigilia di Coppia Coppa Italia per il Campobasso e l'Agnonese che domani alle 16 si sfideranno a Trivento nel turno preliminare la vincente affronterà il Termoli domenica 31 al Cannarsa vediamo giorno di vigilia per Campobasso e l'Olimpia agnonese che domani si affronteranno a Trivento nel turno preliminare di Coppa Italia come è facile intuire l'attesa maggiore in casa rosso-blu che si riaffaccia in Serie D dopo la stagione del triplete che ha fatto dimenticare le amarezze dell'ultimo anno di Lega Pro coinciso con l'ennesimo fallimento prima il maldestro tentativo dell'imprenditore di Palma annunciatosi come cura ma poi rivelatosi peggiore del male poi l'arrivo del comitato dei tifosi noi siamo il Campobasso guidato da Giulio Perrucci che tuttora detiene la maggioranza del capitale sociale nella formula il Campobasso e Campobassani sta dando i suoi frutti portando entusiasmo a PIL e soprattutto risultati sul campo e per domani sul rettangolo di Trivento c'è molta curiosità per vedere all'opera il primo 11 di Farina che non potrà contare su Pignatore e Vitelli squalificati ma su un sistema di gioco collaudato sia da sviluppare con il 4-4-2 dagli esterni di centrocampo altissimi che al momento sembra quello preferito rispetto al 4-3-3 che forse si adatta maggiormente alle caratteristiche degli interpreti in rosa Farina come Benitez si consulterà con il cuscino per svelare l'arcano non così l'agnonese con Donatelli che è partito deciso con il 4-4-2 a supporto del tandem Gesuele-Saltarin con Di Lull ricamato a fare da cerniera centrale sarà interessante vedere il livello di affattamento dei Granata quasi tutti nuovi di Zecca al cospetto di un campo basso che ha soltanto puntellato lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno l'attesa finirà domani alle 16 all'acqua Sant'Anni quando il direttore di gare il signor Paterna di Teramo e gli assistenti di Girolamo Illustri fischieranno l'inizio della nuova stagione Il keniano Kiplagat ha vinto il terzo trofeo Aido città di Agnone sulla distanza di 9 km con il tempo di 29 minuti e 48 secondi precedendo Ivan Di Marco e Domenico Liberatore tra le donne il successo è andato a Pala Di Tillo della Virtus Campobasso davanti a Ilaria Novelli e Anna Bornaschella Prime settimane con la magna del Termoli per il difensore Ciro Poziello che si è già messo a disposizione di mister alla cava per assimilare i nuovi schemi vediamo Ciro Poziello un ammonimo in squadra con te tuo fratello questa nuova avventura per voi come è partita? Sì diciamo che è una nuova esperienza un girone nuovo il primo anno con il Termoli abbiamo già giocato qualche anno insieme speriamo di far bene come gli altri anni è partita bene già da questa amichevole abbiamo iniziato a provare quello che il mister ci ha accesso penso e spero che sia andato tutto bene Cosa manca a questa squadra? Cosa manca? Non lo so siamo ancora all'inizio stiamo iniziando a mettere un po' di carburante per il campionato a livello sia atletico che cercando di assimilare un po' gli schemi perché siamo quasi tutti nuovi diciamo che più si va avanti più ci renderemo conto di cosa manca ma penso con l'impegno e con i sacrifici quando possiamo andare avanti bene Quali sono gli obiettivi della squadra quest'anno? Il primo obiettivo è quello di salvarci e di fare il meglio possibile prima arriva la salvezza prima possiamo divertirci e cercare di arrivare il più alto possibile bene con lo sport termina questa edizione del telegiornale di Molise TV io vi lascio alla Meteo vi ringrazio per averci seguito arrivederci il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso previsioni del tempo per domenica 24 agosto l'anticiclone lascia spazio ad un rinforzo del maestrale associato al transito di un impulso instabile più attivo sulle regioni centrali nel corso della giornata prevalgono le nubi sui settori esposti con qualche acquazzone che interesserà il gargano tra sera e notte altrove rimane asciutto con schiarite prevalenti sui versanti ionici e tirrenici temperature in lieve calo specie nei massimi ventilazione in graduale rinforzo tra nord e ovest e nord est con mari da poco mossi a mossi sull'Adriatico ancora poco mossi altrove vediamo le temperature nel dettaglio Campobasso minima 16 massima 26 Isernia minima 18 massima 27 Termoli minima 22 massima 26 Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso attesare in